Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare cinque, a volte sei giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Deve sempre pensare con una coscienza perfetta, questi stanno rubandomi la vita in cambio di due milioni e mezzo al mese bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile, non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano due milioni e mezzo al mese bene che vada. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate con quello che le sorveglia a fare l'amore otto ore al giorno, sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare sei giorni a settimana, certo c'ho il mitra e la nuca e lo faccio perché faccio il discorso che meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare, otto ragioni e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione. Se tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, e lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la terra a girare intorno al sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto, eh sì, sono ventidue secoli che tutti dicono che è il sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stonzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affermia, signori. Allora guarda, noi intanto ti cadiamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare otto decimi a tre quarti di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo. Signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorderci che siete tutti morti.